No è che non devi stare a culo a lui Perché se gli stai a culo al Massimino Lui il cazzo Il cazzo Il cazzo Perché si ferma la tendenza Allora vado su prima io Epa ai Ah Non è semplice Non è semplice Ah vedi allora 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 No 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 Grazie a tutti. Buco di merda. Buco di merda. Buco di merda.